ben ritrovati cari amici di auto occasioni oggi noi ci troviamo nella concessionaria auto ingros di corso rosselli 181 a torino tantissime novità per questo mese allora seguitemi andiamo a scoprirla insieme state con me pochi giorni fa è stata presentata la fiat 500 elettrica rai da testimonianza di come il progetto 500 abbia sempre più un respiro internazionale ottobre nuova fiat 500 elettrica tua a partire da 159 euro al mese con fiat passare ad una mobilità elettrica e green è davvero alla portata di tutti intramontabile funzionale indispensabile per la vita di tutti i giorni fiat panda approfitta degli incentivi ottobre tua da 153 euro al mese in auto ingros puoi trovare la panda più adatta alle tue esigenze fiat 500 x il crossover fiat e l'auto diesel più venduta in italia da inizio anno ed è disponibile da auto ingros nelle varie versioni cross sport e google oppure la lussuosa fiat 500 yachting a ottobre gamma 500 x tu a partire da 268 euro al mese fiat 500 l è l'auto perfetta per la famiglia e per tutti coloro che cercano grande capacità di carico scopri anche la nuovissima versione e google gamma 500 l autobre tua a partire da 248 euro al mese scegli da auto ingros la nuova fiat tipo disponibile nei vari allestimenti cinque porte station wagon city cross o cross lasciati stupire dalla tecnologia che trovi a bordo a ottobre può essere tua da 206 euro al mese fiat 500 hybrid l'ibrido per la città che ti permette un risparmio sui consumi fino al 25 per cento perfetta anche per i neopatentati a ottobre tua da 183 euro al mese cosa aspetti corri in concessionaria disponibilità limitata di vetture in pronta consegna lasciati consigliare sulla scelta della tua nuova abart dai consulenti auto ingros sali a bordo dello scorpione a ottobre abart 595 tua a partire da 199 euro al mese chiedici maggiori informazioni anche su abart f595 un look ancora più audace performance incredibili e diverse personalizzazioni tra cui scegliere carattere determinato e animo seducente lancia y hybrid è ancora più conveniente ottobre tua da 129 euro al mese approfittane subito alfa romeo giulia la berlina made in italy elegante sportiva massima espressione della meccanica e delle emozioni a ottobre tua da 299 euro al mese vieni a scoprirla nei nostri showroom ti innamorerai al primo sguardo per te che cerchi l'intensità l'audacia e la bellezza alfa romeo stelvio il suve elegante dall'inconfondibile stile sportivo a ottobre da auto ingros tuo da 299 euro al mese l'auto che più di ogni altra esprime libertà e jeep renegade scegli tra le varie motorizzazioni tradizionali o ibrida 4x e plug in cosa aspetti la tua nuova jeep da auto ingros è in pronta consegna a ottobre tua da 159 euro al mese chiedici informazioni anche sulla renegade a chilometro zero nuova jeep compass è il suv plug in hybrid più venduto in italia da inizio anno scegli la libertà di andare ovunque con la tua compass ottobre tua da 249 euro al mese da auto ingros troverai gli allestimenti e le motorizzazioni della nuova compass in pronta consegna approfittane subito nuova hyundai i10 è la city car per eccellenza di casa hyundai scopri gli allestimenti e lasciati consigliare dai nostri consulenti su quello più adatto alle tue esigenze hyundai i10 ottobre è tua da 99 euro al mese da auto ingros puoi trovare la nuova hyundai tucson lasciati consigliare sulle varie motorizzazioni ibride e tradizionali scegli suv dall'eccellente rapporto qualità prezzo hyundai tucson a ottobre tua a partire da 289 euro al mese scopri hyundai bayonne hybrid da auto ingros concessionario ufficiale hyundai a torino in corso rosselli 181 scegli il primo urban suv hyundai compatto e agile perfetto per la città senza rinunciare al comfort a ottobre tuo da 199 euro al mese scopri la gamma hyundai cona da auto ingros lasciati consigliare dai nostri consulenti sulla motorizzazioni più adatta alle tue esigenze di mobilità a ottobre gamma hyundai cona a partire da 199 euro al mese 100 per cento elettrica 100 per cento al top della tecnologia nuova ionic 5 disponibile in showroom scoprila nella sede di corso rosselli 181 a torino a ottobre ionic 5 tua da 42 mila euro siamo giunti in chiusura di questa puntata avete visto tantissime proposte tante novità e prezzi molto interessanti per questo vi invito a venire qui in corso rosselli 181 a torino ma vi ricordo anche le altre sedi rossa pinerolo borgaro torinese e piacenza insomma da qui è tutto e alla prossima puntata grazie a tutti